ragazzi bentornati oggi andremo a vedere come sparare su fortnite per sparare finalmente allora adesso che abbiamo la nostra arma col mouse andiamo a premere il tasto sinistro così non è automatica quindi premiamolo più volte ho cambiato arma scusate ecco qua abbiamo sparato su fortnite seguitemi per altre guide ragazzi alla prossima